Nel fine settimana sulla regione affluirà inizialmente aria secca dovuta ad un'alta pressione che si forma temporaneamente sul nord Italia, poi domenica invece avremo correnti più umide in quota date dal passaggio di un fronte dalla Germania ai Balcani. Per quanto riguarda la giornata di sabato, bel tempo, cielo sereno su tutta la regione, giornata splendida, temperature massime intorno ai 20 gradi su pienura e costa, mentre le minime saranno intorno ai 10 gradi sulla costa e tra i 6 e i 7 per quanto riguarda la pianura. In montagna nei fondovalle possibilità di gelate, zero termico a 2000 metri circa. Per domenica avremo nuvolosità variabile sulla regione dovuta al passaggio prevalente di nubi in alta quota, qualche nube bassa però potrà formarsi sulle zone orientali. Per quanto riguarda il vento avremo venti in genere deboli, sulla costa sofferà al mattino vento debole o moderato da sud est, nel pomeriggio da sud ovest, sempre debole o al più moderato. Non sono previste piogge. Per l'inizio della prossima settimana avremo cielo da poco nuvoloso a variabile, non è escluso che vi sia qualche debole pioggia sparsa tra le due giornate, però la probabilità è piuttosto bassa. Dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvatore.